La prima regola sono dunque le regole. Il che, nell'idea di gattuso, significa rispettare il gruppo, darsi completamente per la squadra, aiutare i compagni e vivere da professionisti. Ultimo ma fondamentale punto. Questo non deve ovviamente indurre a pensare che sia tutto qui perché anche in questo gattuso è stato chiarissimo il patentino a Coverciano non me lo hanno regalato. Rino è un trascinatore, certo, ma vuole e deve essere un allenatore. Portare idee, dare una struttura, rendere logico l'agonismo. I principi, al momento, saranno pochi ma chiari e sono già stati abbondantemente comunicati difesa a tre, con Bonucci confermatissimo nel ruolo di capitano, e tridente offensivo con possibili variabili a seconda degli avversari. La tendenza a far circolare il pallone in orizzontale, marchio di fabbrica di Montella, lascerà spazio a un gioco verticale e, quindi, probabilmente più rapido. Ci vorrà di nuovo del tempo, perché i cambiamenti, sia pur non traumatici, sono netti. E in questo tempo sarà utile la spinta emotiva oltre che un calendario favorevole che arriverà dal tecnico. La spinta emotiva dovrà però essere solo la miccia per innescare tutto il resto. Per questo gattuso ha immediatamente chiarito che non sono solo grinta e cuore. Rino vuole un Milan organico, lucido, tatticamente attento. Anche la scelta di due allenamenti fisici a inizio settimana e tecnico-tattici con l'avvicinarsi delle partite va in questa direzione. Il Milan deve correre ma correre con logica, sarà in grado di farlo lo vedremo. Intanto, dicono, ci si ammazza di fatica e si sudda anche con questo freddo. Solo un inizio, d'accordo, ma già un buon inizio.